Gocce magiche, date l'energia all'occhio di papà. Quando la mamma è morta io stavo lì. Stavamo lavorando, quando sento un rumore improvviso. Lo guardate negli occhi e non respiravo più. Non ti preoccupare. Papà mi ha detto che mamma ritorna. Solo queste ci date. Guarda che siamo in due. Sì. Vieni, vai, 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 vai. Maia, forza, dammi la mamma. Maia, forza, dammi la mamma. Maia, forza, dammi la mamma. E da quel giorno il suo occhio è diventato tutto bianco e ha iniziato ad avere superpoteri. Era duro il mestiere di spacca pietra. E' la mia mamma. Maia, forza, dammi la mamma. E' la mia mamma. E' la mia mamma. Grazie per la visione!